Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Samuel Stern, ma anche bentornati nella rubrica Toys and Unboxing. In questo caso, infatti, per quanto riguarda Samuel Stern, non farò la recensione di un fumetto, di un albo, ma mi limiterò a fare uno spacchettamento di qualcosa che mi è arrivato dallo store della Bugs Comics. Cosa sarà mai? Beh, potete immaginarlo, però ci tengo ad aprirlo con voi insieme, in modo da avere anche un po' più di video su Samuel Stern e così voi sterniani potete anche scoprire la mia rubrica Toys and Unboxing e chi segue la mia rubrica Toys and Unboxing può scoprire la rubrica Samuel Stern. Allora, innanzitutto, aperto, tiriamo fuori, eccolo qui, signori, la casa delle farfalle con la copertina Variant. Io non sono tantissimo un amante di prendere fumetti solo perché cambia la copertina piuttosto che, però, cavoli, Samuel Stern è un buon ellide, è un fumetto italiano, un fumetto da edicola, un fumetto da edicola che sta andando molto bene. Comunque, in un anno come il 2020, che è riuscito a tenere botta, è un fumetto di cui ho, dal numero 1 fino al numero 15, con anche la cover bianca del numero 7, l'agenzia. Ho detto, ma vuoi non prendere la Variant cover anche della casa delle farfalle, in modo da avere la collezione, che un domani magari mi compro una villa con la mia collezione di Samuel Stern, sarebbe bello. Tra l'altro, stupidamente, non ho pensato di farmi arrivare anche un'altra cover sempre bianca, primo perché avrei evitato le spese di spedizione, aggiungendo qualcosina al pacco, e secondariamente perché così facendo, avendo due Variant cover bianche, avrei potuto una farmela disegnare, farmela scarabocchiare da qualche autore quando ci si potrà incontrare alle fiere, e l'altra avrei potuto ottenere la proprio bianca, sarebbe stato bello. E ora passiamo all'altra cosa che ho ordinato. Ovviamente, come ho appena detto, ho tutti i numeri di Samuel Stern, quindi non potevo prendere il cofanetto di Samuel Stern, ho preso semplicemente il contenitore del cofanetto. Questo contenitore dovrebbe contenere, appunto, i primi 12, se non ho capito male. Però adesso vediamo, adesso lo montiamo. Et voilà. Ecco fatto. Va che figo. Va che figo, la tech. Ecco, adesso gli diamo un po' più la sua forma quadrata. Ecco fatto. Samuel Stern. Vediamo così. Wow. Andiamo subito a metterci i fumetti, eh. Vado a prenderli. Allora, ovviamente ecco, come ho detto, io ho Samuel Stern dal numero 1. Purtroppo non ho il numero 0 perché non lo conoscevo quando è uscito il numero 0. L'ho scoperto con il numero, credo, con il numero 2 Samuel Stern. Poi ho recuperato l'1. Ma lo 0, si sa, è introvabile. Più introvabile di alcuni vecchi numeri di Dylan Dog. Quindi ho recuperato il numero speciale, quantomeno, che quantomeno contiene la prima storia. Tra l'altro alcuni miei fumetti, vuoi anche perché ci ho fatto la recensione, vuoi perché alcuni ho scansionato le copertine per fare prima, per avere un'immagine migliore del... come si dice... della... una risoluzione migliore delle mie miniature. Fatto sta che sono... iniziano ad essere un attimino sbeccati e questa cosa non mi piace. Fortunatamente è arrivato il contenitore che mi proteggerà un pochino. Adesso ve lo faccio vedere. Vediamo se riesco a farvi vedere anche i numeri extra. Eccolo qua. Ok. Con... allora... i primi 12 numeri all'interno del cofanetto. Adesso per farvelo vedere in modo un po' più chiaro lo metto così. Con i numeri dall'1 al 12 in versione normale, in versione standard. Poi alla... pensavo di mettere poco prima il numero speciale, il numero 7 variant, white cover, e il numero 12 variant, che è quello che mi è arrivato insieme al... a questo cofanetto. Per poi mettere gli altri numeri regolari. Chissà se ogni anno la Bugs Comics farà un cofanetto o è solo per i primi 12. Chi lo sa, chi lo sa, vedremo, eh. Sono molto contento. Mi piace, mi piace come starà in libreria. Credo che comunque lo terrò in modo da vedere tutte le copertine visibili, dato che facendo i video potrebbero servirmi a colpo d'occhio anche solo per ricordare qualcosa. Quindi lo terrò così, però si potrebbe benissimo tenere anche così. È molto generico, obiettivamente. Siamo noi gli stupidoni che ci mettiamo dentro i primi 12 numeri. Ma in realtà non c'è scritto nulla qua. Quindi uno potrebbe prenderne, che ne so, 2 e metterci i primi 24 numeri. Potrebbe prenderne 10 e metterci i primi 144 numeri. Non sono bravi in matematica, scrivetemi sotto se ho sbagliato. Sarebbe molto carino, dato che comunque non è stato personalizzato. Si potrebbe personalizzare, che ne so, con un bell'autografo di Fumasoli, di Filadoro o dei vari disegnatori che hanno partecipato ai numeri che vorrete mettere all'interno. Quindi non per forza i primi 12, ma 12 numeri. Contiene 12 numeri. Poi metteteci i numeri. Bene, fatemi sapere la vostra collezione di Samuel Stern. Se ne avete una, cosa contiene, cosa comporta, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri di Samuel Stern. Condividete questo video con tutti gli Sterniani che magari conoscono anche il mio canale e quindi possono andare a vedere anche le altre recensioni. E niente, fatemi sapere cosa avete preso voi dallo store della Bugs Comics. Store della Bugs Comics che se volete ve lo metto qua in descrizione così eventualmente se non sapete come trovarlo lo trovate sotto in descrizione. Io di solito in descrizione metto anche dei link Amazon, cose che possono centrare con la storia che recensisco. In questo caso ho parlato solo di acquisti di Samuel Stern, quindi non penso ci siano su Amazon. Quindi vi metto solo il link della Bugs Comics e magari la playlist che vi rimanda a tutti i miei video in cui parlo di Samuel Stern. Come sempre grazie per avermi seguito fino a qui, anche se è un video un pochino cortino, ma almeno abbiamo parlato ancora un po' di Samuel Stern senza aspettare un mese intero. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.